Prosegue la battaglia legale sulla Movida. Da un lato il Comitato Cittadini per il Centro Storico rappresentati dall'Avvocato Claudio Aloisio, che ha solo coordinato però perché sono stati direttamente cittadini a volersi fare parte attiva. Dall'altra parte c'è il Comune, che ha deciso di costituirsi in giudizio per difendersi. Questa volta, sotto accusa, ci sono gli eventi legati alla perdonanza. Il legale Fausto Corti, per conto dei cittadini, ha impugnato davanti al TAR l'ordinanza, con la quale il Sindaco aveva concesso una deroga per la musica per gli eventi e locali durante la perdonanza. Oltre a questo, saranno denunciati gli esecutori materiali degli spettacoli. Sono già una cinquantina i residenti che stanno andando avanti per le vie legali. Il 20 intanto si discuterà la sospensiva. Durante lo svolgimento della perdonanza, il Sindaco dell'Aquila ha assunto una ordinanza con la quale ha consentito praticamente lo svolgimento di spettacoli notturni fino alle 2-3 di notte. Questo ha comportato che dal 20 di agosto fino al 3 di settembre, nel centro storico, c'è stato costantemente un chiasso infernale, DJ set, discoteche, concerti, eccetera. Il chiasso, soprattutto per la perdonanza Village e per l'altra iniziativa, l'aperitivo al parco, è stato tale che è stato avvertito, addirittura a me mi hanno detto, che c'è gente che non ha dormito pur abitando a Gignano, abitando al Torrione, abitando a San Francesco. Questo è un atto oggettivamente di ostilità che il Sindaco ha compiuto nei confronti degli abitanti del centro storico. Perché significa che il diritto alla salute e al riposo degli abitanti del centro storico per il Sindaco è inferiore, sacrificabile, in nome del diritto al chiasso e al rumore degli esercenti, dei pubblici esercizi. Quindi abbiamo deciso che da questo momento in poi ogni ordinanza di deroga che verrà fatta dal Sindaco dell'Aquila verrà impugnata al Tarra e che, qualora dovessimo ottenere un risultato positivo, chiederemo al Sindaco e al Comune il risarcimento del danno. A questa attività, che è di natura più strettamente amministrativa, si lega poi la decisione che abbiamo assunto di denunciare tutti quelli che hanno creato il rumore, quindi tutti quanti gli imprenditori privati o gli organizzatori di associazioni e anche gli stessi autori del DJ set e degli spettacoli musicali per il reato di schiamazzi notturni.